buona serata ben trovati da firenze smart mauro ciutini coda per traffico intenso in a1 tra firenze scandici e il bivio a1 a11 firenze pisa nord la direzione quella per bologna sulla firenze fisa livorno tra punte d'era est e punte d'era ovest anche qui il traffico è rallentato per lavori in direzione di livorno sempre sulla strada di grande comunicazione tra firenze scandici e l'altra segna traffico intenso verso livorno veniamo ai lavori a firenze oggi nuovo allaccio alla rete idrica in via michelacci interrotta la circolazione dalla via della cupola a via ferrarin provvedimento in vigore fino all'11 novembre ricordo infine sulla firenze pisa livorno stanotte orario 22 6 lavori di ripristino della pavimentazione e rifacimento della segnaletica chiuso il tratto tra empoli ovest ed empoli centro in direzione di firenze non ci sono altri aggiornamenti è tutto grazie a regione toscana città metropolitana e comune di firenze